È un lavoro che è iniziato già prima della fine dello scorso anno. Crediamo che sia necessario oggi ridare un'identità a Gabice Mare, che forse era un po' smarrita negli anni, cercando di partire proprio dalle tradizioni, qui adesso non posso svelare nulla, però sicuramente è una ricerca storica di quello che ha reso importante, famosa a Gabice in tutto il mondo a livello turistico dagli anni 50-60 e quindi da quello, insieme anche a altre peculiarità e caratteristiche che fanno a Gabice Mare una località, come dico io, diversa per natura, si abbineranno tanti elementi della storia, della natura, dell'ambiente, delle nostre capacità di accoglienza, in modo tale da creare questa nuova identità, questo nuovo city brand. Di più non posso dire, vi invito naturalmente la sera del 14 agosto, perché è un altro bel momento importante per la città di Gabice Mare. Naturalmente queste cose non si possono improvvisare, quindi ci siamo affidati a dei professionisti del settore che hanno fatto questa ricerca molto specifica sulla base di input che gli abbiamo dato e abbiamo condiviso un po' anche con tutte le categorie economiche, nei tavoli del turismo che abbiamo portato avanti da ormai già da qualche mese e secondo me l'occasione giusta sarà proprio quest'estate, il giorno prima di ferragosto, per iniziare a dare un input. Naturalmente uno degli elementi che caratterizzeranno l'identità sarà anche il Mississippi, quindi ci sarà qualcosa, anche qualche importante novità sul Mississippi, così come ci saranno anche il trisegna all'interno della città che danno già un'importante evidenza di quello che succederà da qui nei prossimi anni.